Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Pulcio 157 Mini, ma voi mi potete chiamare Minpulcio 150, cazzo, 157, c'è una Ferrari, una Lotus, un Furga, eh, questo sarei io, comunque la cazzone è fighissima raga, è figa, Togliti dalle palle macchina di merda, oh, bravo, cosa, dovevo sbattere, oh mio dio raga, oddio, bravo, continua così, idioti, io, devo spaccare tutto, ok, toh, toh, dammi Peach Money, Bene, ce l'hai fatta, oddio, che figata, let's go people, esplodi, minchia, esploso davvero, no, forse ci sente quanto io parlo, ah, per 1,5, sì, Uh, uh, oh, che cazzo, ma me fa più giro, ciao zio, che c'è, vuoi morire, oh, bravo, continua così, che cazzo, ciao, 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 ma l'ho fatto, aiuto, Spacco tutto, no, arrivano sì, coglioni, tagliati, ciao zio, come l'ho fregato, No, 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 fuck you, mi hanno catturato, Questa è la mia, ah, posso potenziare, D'accordo, andiamo, Sarei in grado di sfasciare, Let's go, peaches, No, Mica, me ne sono accorti che c'era, Alla crepa, Oh, Oh, My God, Toglietemi, Ho detto, Toglietemi dalle palle, Capite la parola, Toglietemi dalle palle, Tu che cazzo vuoi, Tiri baldo, scherzo! Fottiti! Oh yeah! P.C.S! Aiuta! Ciao! Aia, cazzo! Aia, cazzo! Oddio! Oh mio Dio! Che cazzo è successo? Ah! Mi sono preso un accidente, però ho tutte le cose ora spasate! Ciao! No ragazzi, mi hanno bucato tutte le cose! Oddio! Oh! Ah! Basta! E' rotto! Ti faccio saltare! Corvè! Oh! Oh! Voglio provare! Sono la polizia adesso! Fuck you! Oh! Oh! Eh, ragazzi! Oh mio Dio! C'è il devasto più totale qua! Ciao! Allora, mi hanno danneggiato molto violentamente, raga! Perchè c'erano parecchie auto della polizia, della polizia, della polizia! Togliti! Nooo! Mi ha visto! Ciao! E' non è il boss! Non ho finito i cosi! Grazie al cazzo, però! Veramente, raga! Grazie al cazzo! Eeeeee... Ma fanculo! Ok, ho capito! Allora, qua c'è una Lotus molto figa! Allora... Ah, ma ci stanno altre auto! Allora, ragazzi, mi tengo i soldi a questo punto! Perchè adesso che ho capito che ci stanno altre auto... Mi tengo i pescone! Oh yeah! Ok, ragazzi, questa... Corsa adesso la vorrei far durare molto, però... Non... Mille metri... Cioè un chilometro o due... La vorrei far durare tanto! Andiamo! Beh... P.C.S.U! Woohoo! Ciao, zio! Boom! Boom! Ma esplodono! Oddio! Perchè non viene? Non viene? Ah... Ah... Ah! Caduta di sotto la polizia! Grazie a tutti. No. Cazzo. Mi hanno buttato di sotto, ragazzi. Vabbè, ragazzi, comunque io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Commentate, lasciate like e iscrivetevi al canale. Bella, ragazzi. Ciao.